venite venite ci sono i cioccolatini venite venite i cioccolatini venite cioccolatini venite cioccolatini venite cioccolatini venite guardate cioccolatini venite ok grazie 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 ma sta attorno è qui qua guardate sono tante caramelle asciaggiano 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 arancione adesso grazie moro la asciaggiano 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 non so buone questi qua non mi piacciono un po' di questi no mi dispiace venite venite ci sono le cioccolatine caramelle venite venite le cioccolatine caramelle play che 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 la che e sento un buon odore il teo si prende un nuovo pacchetto caramelle venite venite ci sono caramelle caramelle venite ci sono caramelle venite venite caramelle venite caramelle venite caramelle venite caramelle venite caramelle venite caramelle 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 Oder caramelle caramelle Ma che cosa hai capirato? Con i carabelle le sono spaventate Adesso in faccia Non sto in dentro L'aria bianca con te Non sto in dentro Beh, io si Salutiamo Asia Ciao Asia Ciao Ciao E se volete farmi salutare pure voi Scrivetela sotto nei commenti Scrivetevi il vostro nome E non vi andate a non salutare E comunque se vi scrivete Noi abbiamo messo tutti i vostri nomi In un quaderno E vedremo i vostri nomi in ordine alfabetico E li prenderemo Sì Ecco E scrivetelo il vostro nome sotto nei commenti Sì Lasciate un like Attivate la campanellina E iscrivetevi Ciao Ciao Ci vediamo al prossimo video Ciao